Per me è importantissimo sostenere la Fondazione Mondo Digitale, perché non solo si tratta di sostenere progetti che hanno un impatto meraviglioso sul territorio, ma anche sostenere e promuovere un modo di lavorare all'interno e con tutti i partner che veramente può essere un modello, un'ispirazione per tutti gli altri, perché si lavora con competenza, con il sorriso, con la voglia sempre di raggiungere insieme un risultato, mai in modo competitivo ma collaborativo.